Nicolás Resitano, seconda tappa dell'Euronascar, stavolta si gareggia praticamente in casa in Italia, in provincia di Prescia, sulla Franciacorta. Un circuito difficile, con molte curve, per cui ci vorrà grande tecnica per cercare di fare bene. Assolutamente sì, corriamo in casa, avremo parecchio tipo italiano e questo fa sempre piacere. La pista è molto tecnica, ma è bellissima appunto per questo. Abbiamo lunghi rettilini, ma serie di curve abbastanza impegnative. Hai iniziato, come meglio non potevi, questa tua esperienza a livello europeo, ma anche mondiale. E quindi ripeterti, insomma, dopo il secondo e il settimo posto arrivata a Valencia. Assolutamente sì, abbiamo ottenuto subito una prestazione importantissima, che vogliamo ripetere. e magari fare qualcosina ancora in più, vedremo. Per cui un'esperienza che sta andando bene, cosa ti è piaciuto soprattutto di quello che hai visto a Valencia? La cosa che mi è piaciuta di più, come ho già detto, è stato il tifo pazzesco. Centinaia di migliaia di persone a sostenerci. È stato veramente emozionante, anche perché era tanto che mancavo dall'ambiente e che non lo vivevo in prima persona. In questo mese di assenza di gare, come ti sei preparato per questo secondo appuntamento? Mi sono allenato con il mio preparatore atletico tutti i giorni. Ho seguito la solita dieta per non lasciare nulla al caso. La solita dieta per non lasciare nulla al caso. Grazie a tutti